Mortelliti. E' a colpare, posso salire? Ah! Oh! Eh, mi dà... Non è stato un testo, te l'ho riporto dopo. Non c'è pezzo da poter mettere una bomba nel... Siamo in tutta la macchina! Non so di cosa parli. Andiamo. Ho la macchina che impenna, ti ho fatto. Stai, ti puoi saltare in aria. No, puoi saltare in aria. Sì, sicuro. Eh, non tu mi paghi la macchina, coglioni. Oh! Aiuto! Dave, tu preferisci un attettaggio pulito oppure vuoi fare un alla WAKBAR? WAKBAR. Tu sei vivo, no? Sì. Vada, devi fare metallizzato! Vada qua, vada, vada, vada! Ah, brava, vada, il signore a macchina! Camminare con lo Spirito Santo. L'ultimo morte è Napoli. Eh. Un UFO! Ma quanto sta il conteggio? Wow! Ma mi è sporato in faccia, l'UFO! Devo andare a bere superare il Covid. Ma che è? L'UFO! Ma si può entrare? Non lo so, ma adesso lo scoprirò. Buongiorno! No, non si può entrare. Ma c'è un muro invisibile. Però c'è tipo un muro invisibile. Di quella, mi pare. E comunque... Guarda lì, avevo messo i poteri a... Che cazzo è successo? Ma perché? Avevo messo i poteri a te via... Ma che cazzo è sto bug? Ma che cazzo è sto bug? Qui dai... No, 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 Gifu ne vado tu qui. Guarda. 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 Vabbè. Ci fu dei complimenti. No, no, no. Sono cilata da macchina. Oh! Bussaste tu scemo i... ma non vedele i due tu d'oro e io non è caduto ma che è la sagra del islam mi siete messi a sandwich e ci metti a vista visto che guida così il sandwich ristorta l'altra ma c'è pure il kit posso mettere gli altri fan i motori a livello 60 posso mettere una sorga oh atterraggio morbido buonasera buonasera per cazzo e dai lasciali oh no problem come oh come come l'ho acceso? hai fatto oh stia checco dai mi te ma che cos'è perciò caccia oh man on fire mi guardi? si metti in prima persona vai trendy è morto wow questo sto violento ah che co puoi per favore continuare a sparare sempre a sto trendy? io niente i sacci signor giudice ah 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 no aiuto sto caricando ma luca dove? sto morto ma perchè non muore? è morto come i rumeni come i rumeni come i rumeni come i rumeni il romaniglio un napoletano e un mezzo cinese vai letto oh mamma chi lo prende prima GBebe scusa mi sembrava incompleto no porco dio vuoi vedere una cosa guarda guardatemi attentamente ma che si è buttato di sotto cazzo vai ma che cazzo che vuole questo qua a fianco che fai ci fulì a ok scusa mi come amanti da tizia ora aspe rakis piacere aspe gli entriamo in macchina col negozio gli entriamo in macchina col negozio morteliti prende gli alberi che stanno solo l'orgi funi cade per ragioni ignote ma non ha detto a fare il montanaro guarda ci da diamo in montagna te però è possibile era un coniglio di bronzo che con coniglio di per quanto cosa rispetto alla semagra di prima del ciclo di sottofaldito del che cazzo è stato verso dalla collina al fatto sopra che cazzo fai la fortelli di la capacità di prendere gli alberi in mezzo tutto a nulla veramente da dove è il caldo troli tntnt tntnt oh ma che cazzo tnt sto sparando ma non che cazzo fatto ho provato a essere sbagliato vabbè non fai niente andate avanti senza di me maiale prendo una mano no calu ti faccio alle gambe muoviti e se non mi investi Ah l'ho distrutto easy, mamma mia Vabbè vestito! Mi si è portato via un cazzo di... Che merda di portiera Oh vai vai! Ci stanno sparando Oh c***o! Che hito frate? Sto braccio mi aveva fuori Che hito frate Non c***o arrivato Allora, basta arrivare? Fui fuui! Fui fuui! Fui fuui! Fui fuui! Fui fuui! Fui fuui fuui! Siamo arrivati! Sì! Oh, ma questo? È vero, ma che è? Che non mi arriva! Un barone! Uè, Mario! Oh! Che giorni è oggi, no? Ti ho risposto l'oraio! Oh, ci furi, ma è t'apposta! Sì, bra... Sì, sembra... Sì, sembra... Porca troia, chi l'ha visto? Allora, sembra una minaccia quella col... Stai ti ma ce la fai a non colpire una macchina nel range di 500 metri? Castaldi non dormo da 30 cazzo di ore, pustanaeva! Non mi rompere i coglioni, ma immaggia la puttana! Sto morendo! Non so neanche come cazzo nel piedi! Lascia i coglioni! Annaggia la troia! Oh, madonna santa! Ma che fai? No, Davide! Devi ammazzarti, porco! Ma c'è l'altra carta! Ma io vuoi dove... Che hai fatto? Niente troppo come ammazzirlo! 3... 2... 1... Vai! Puuu! Osceee! Che c'è Fra? Sei rimasto un po' deluso? Sì! Ti piace il mio bolide allora? Vado a venderla! Io ti faccio fare un giro! Fami farmi giro sulla tua! Allora vado a venderla! Vado a venderla! Vado a venderla! Farò... Eh va bene! Io te la putto in etta dentro al mare! Non ti rucco male! Che rucco male! Te la so schiaffare dentro un muro! No dai! È ripetutamente però eh! C'è un po' pure dietro! Vado! Buonasera! È un pusano criminale! Che cazzo!